FUSIONE Galattici amici ma soprattutto galattiche amiche Bentornati a questo appuntamento della Clinica Fondamentale Oggi come promesso tratteremo la parte o non avevamo promesso non mi ricordo se l'avamo promesso bene altrimenti ve lo promettiamo adesso di trattare come si trattano appunto i pennelli, i colori eccetera quindi la manutenzione dei nostri attrezzi principali da modellismo esattamente allora in realtà non c'è tantissimissimo da dire sui pennelli sulla loro manutenzione sono giusto pochi consigli che però è meglio seguire ovvero molto consigliato banale usate il pennello giusto per il compito che state facendo cioè non usate il vostro miglior pennello esatto come abbiamo detto anche nel precedente video non usate il pennello migliore per applicare la colla vinilica oppure per fare un dry brush o per stendere la base di colore su un mantello o meglio potete farlo non sta a noi dirvi quello che potete fare nella vita se volete buttare un sacco di soldi potete farlo se come tanti altri analisti vi preferite risparmiare un pochino e trattare bene i vostri attrezzi in modo che durino il più possibile vi regalino un sacco di soddisfazioni seguite queste invece le indicazioni altra cosa forse ovvia da dire ma utile anche in questo caso da seguire quando comprate un pennello viene fornito ci seguono anche i minori però non farei proprio vedere così quando ho comprato un pennello viene fornito con un un solito capocchio un solito capocchio un cappuccetto un cappuccio in plastica che oltre a essere piacevole da mordicchiare è anche utile soprattutto per proteggere le setole del pennello quindi evitare che si possano deformare nelle pause tra una sessione di pittura e l'altra un altro consiglio che posso darvi per quanto riguarda la cura dei pennelli è a sessione finita quindi potete farlo in realtà ogni volta che finite di dipingere ma io personalmente parlo per l'esperienza mia lo faccio periodicamente quindi una volta a settimana anche tu non finisci mai di dipingere esatto è un continuum dipingi anche mentre dormi in pratica è utile sciacquare i pennelli su internet si trovano numerosi prodotti per esempio dei saponi specifici per le setole dei pennelli ma in realtà io mi limito a fare una cosa abbastanza semplice ovvero una volta finito di dipingere sciacquo il pennello sotto acqua corrente tiepida o fredda? fredda perché l'acqua fredda? perché con l'acqua calda potrebbe a lungo andare sciogliere la colla tra le setole che trattiene le setole incollate quindi direttamente al pennello esattamente quindi io semplicemente sciacquo il pennello sotto acqua corrente fredda e dopo aver finito passo sul palmo della mano un pochino di balsamo semplice balsamo per capelli che uso poi per diciamo così lisciare le setole del pennello e rimuovere perché mi guardi così? per rimuovere ogni residuo di colore ogni voglio vedere come lo fai? c'è una cosa che molto spesso i principianti o anche comunque gli hobbisti più veterani ma distratti tendono a fare che secondo me è disastrosa cioè abbandonare il pennello nella potti quindi direttamente nel contenitore di acqua senza nessun appoggio quindi la parte delle setole annegata nell'acqua col peso del pennello che la schiaccia in giù perché è sbagliato? è sbagliato perché se il pennello viene lasciato precipitare per la forza di gravità quello che succede è che la punta va a quel paese detto proprio in due parole un'altra cosa da dire però potrebbe essere utile per dipingere dietro gli angoli quando è stato beh sì sì assolutamente sì sì per fare degli edge highlight della madonna è comodissimo un'altra cosa da ricordare che è meglio evitare di fare in fase di pittura è guardando il pennello vedete che c'è la setola e c'è una ghiera metallica la cosa da non fare assolutamente è far andare il colore sulla ghiera metallica perché quello che succede quando il colore entra tra le setole è che a lungo andare possa far perdere la punta quindi le setole non sono più unite come lo sono all'inizio e di conseguenza si aprono esatto le setole si aprono il pennello esatto può diventare un ottimo candidato per la vinilica o tra i brush quello brutto brutto per dire questo pennello lo uso più o meno ogni giorno da 3-4 anni e mi sembra come morbido è golosone si vede che fa la manutenzione assidua inoltre direttamente dal web il nostro buon bob moro consiglia un prodotto in particolare ce ne sono diversi ma qui visto che è un uomo che apprezziamo particolarmente ci teniamo a citarlo e quindi cosa ci consiglia il buon bob moro il buon bob moro ci consiglia il restauratore per pennelli dell'obscurium cos'è in pratica è diciamo l'ultima spiaggia che avevola così siamo messi malissimo col pennello però ci siamo molto affezionati e quindi quindi per rimuovere i residui di colore particolarmente tenaci ostici esatto oppure per dare una pulizia più profonda magari che l'acqua corrente e il balsamo possono non dare quello è utile per dare una nuova botta di vita a restaurare appunto il nostro pennello quindi qui dalla frangia orientale per il momento è tutto frangia orientale siamo sì da qualche parte quindi nella galassia se siamo ancora nella galassia credo per noi è tutto come al solito se volete farci domande volete che approfondiamo un argomento piuttosto che un altro siamo sempre volentieri a vostra disposizione ricordatevi il mi piace a questo video l'iscrizione al canale campanellina per essere aggiornati tutte le nuove uscite abbiamo se preferite anche ma vi consigliamo ovviamente il canale youtube perché è la parte dove è più cicciosa c'è anche la nostra pagina facebook la pagina invece instagram e noi siamo qua aspettiamo le vostre ciao ciao in pratica è utile sciacquare i pennelli soprattutto se avete un appuntamento si sciacqua sempre il pennello non servono prodotti particolari su internet si trovano ricominciamo a via ricominciamo simo mi fa ridere il pennello ha capito quello del pennello tornando a noi fallo voloso il pennello la setola fa non finiamo mai dimostrazione pratica metto il balsamino lubrificante nella mano ci appoggio il pennello e con delicatezza faccio la punta tipo così esatto è interessante è interessante anche Grazie a tutti.